Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Arcade Parla. Siamo qua finalmente con qualche piccolissimo leak per quanto riguarda la stagione 2, principalmente per contenuti di molti giocatori e operatori, ma anche qualcosina per zombie, principalmente le Wonder Weapon. Già più volte abbiamo parlato di quella che sarebbe la Ray Gun, che dovrebbe finalmente arrivare chiamata nel cogio del gioco Cool Gun, e teoricamente anche una Wonder Weapon Scudo. Per dire già Nortico, durante quei minimissimi passaggi del pre-easter egg, possiamo chiamarlo così, di Duranfang, parlava di avere uno scudo che non è come quello moderno, perché quello degli umani è troppo debole, ma qualcosa di molto più resistente e potente. Di conseguenza in tanti, io compreso, pensavano alla possibilità di una Wonder Weapon Scudo, che sarebbe comunque molto interessante e ha senso, già adesso c'è lo scudo da combattimento su zombie, quindi farne una variante molto più potente come Wonder Weapon, sarebbe comunque divertente e alternativo, per vedere vecchie Wonder Weapon la Ray Gun, che è un grande classico, ma anche cose completamente originali, con Cold War abbiamo visto che sanno fare ancora tante cose, e Wonder Weapon molto potenti e molto belle. Partendo come sempre da Nanikos, che ripubblica alcune cose del suo Discord, dove i leak sono veramente giganteschi, perché come sempre molta attenzione sui social, la parte di Activision o simili, che buttano giù tutto quanto, anche se alcune cose per dire non sono sempre affidabili. Nanikos sappiamo che lo è, quindi seguiamo tutti quanti i contenuti, e questo bellissimo elenco della spesa. Quindi in stagione 2, che vi ricordo è stata rimandata al 14 di febbraio, quindi ancora molto avanti, avremo queste mappe per il multigiocatore. U.S.S. Texas è rimasta realizzata da COD World War II, Alps, Bastion Tank e Factory. Sembra che c'è un numero veramente elevatissimo di mappe multigiocatore in questo COD, già le 16 al lancio e tante altre in arrivo. In seguito, come è successo anche nella season 1, tre operatori di cui, uno disponibile al lancio col Battle Pass Anna, uno disponibile dallo store Thomas, e uno disponibile dallo store dopo il mid-season update Gustavo. In seguito qua si parla soltanto di un'arma che arriva in season 2, il Shao Shat, penso si pronunci così, sicuramente l'ho pronunciato malissimo, ma penso che ci saranno anche altre. Già in stagione 1 sono state tre armi aggiunte, se ricordo bene, quindi una in tutta una season, sembra veramente poco. Di solito sono uno o due al lancio nel Battle Pass, e magari un'altra in mid-season. Finalmente poi abbiamo contenuti di zombie stagione 2, per cui Ray Gun, Cool Gun come Wonder Weapon, finalmente vorrei dire, e sono molto curioso di vederla con questo engine, potrebbe essere fatta in maniera bellissima, molto molto figa, e speriamo chiaramente sia potente. Shield Wonder Weapon, quindi Wonder Weapon per uno scudo, che spero sia veramente molto molto forte. Per un esempio dallo scudo di Black Ops 4, che era rottissimo, fatto alla Wonder Weapon, dovrebbe essere molto efficace, e magari faccio resistere tantissimo ai colpi, già lo scudo base è comunque comodo. In seguito Verkanna, che è il demono che abbiamo visto e verrà introdotto in stagione 2, e il suo colore verde, appunto dovrebbe essere il potenziamento, l'arte fatto in questo caso, aura curativa. Ha perfettamente senso, alcuni pensavano di crescita tossica, ma per come è costruito The Run Fang, avrebbe molto più senso qualcosa per curare i compagni, piuttosto che mettere una pianta che uccide, che in mappe a round dove magari si campera, e si fanno a round molto velocemente, ha senso, ci sta magari adesso con l'obiettivo vuoto, ma generalmente per gli obiettivi sparsi, che sono molto in movimento, aura curativa è molto meglio. In seguito, sempre contenuti di zombie, questo New Map CP ZM Scorpion, ovviamente ZM, quindi Zombies Scorpion. Questa dovrebbe essere appunto la hub nuova per la zona in Egitto, per sostituire Red Star Stalingrado, come pezzo iniziale. Come al solito, alcune sezioni chiuse, che si aprono con altri obiettivi, tutti quanti i perk, e di conseguenza collegate altre aree, altre aree, che sono quelle qui sotto, Map Areas, CP ZM Scorpion Hall, quindi immagino la parte centrale diciamo, CP ZM Scorpion DRKTR, che sinceramente tutti questi codici sono molto vaghi, e CP ZM Scorpion Oasis, che se ricordo bene, c'è una hub molti giocatori proprio con questo nome, quindi probabilmente come è stato anche per Hotel Royale, alcune cose verranno poi riutilizzate, ma in tema zombie. In seguito qua già si parla in parte della stagione 3, mi sembra veramente prestissimo, però gli operatori secondo questo leak dovrebbero essere Taeyang, Florence e Matteo. Ovviamente non interessa tutto quanto quello che è in stagione 2, o comunque in seguito per zombie, tutto il resto comunque sono dei contenuti, e come tutti i leak, rumor, roba del genere, tutto quanto va preso un attimo con le pinze, molte cose possono cambiare anche all'ultimo secondo, vediamo anche soltanto il rimandare la season di 12 giorni, che è avvenuto soltanto di recente. In ogni caso, in arrivo ben due Wonder Weapon, infatti abbiamo detto Wonder Weapon multiple nel blog di Treyarch, e di questo ne sono molto contento. L'arrivo di Verkanna come nuovo demone, potenziamento da campo, e quindi artefatto, e nuova zona per Deranfang, per sostituire un attimo qualcosa. Continuo a pensare che avrebbe senso non separare troppo queste sezioni, capisco che la zona iniziale, prima abbiamo Stalingrado, poi Egitto, per dare un attimo di varietà, e quello va sicuramente benissimo. Il problema sono tutte quante le aree ne ricollegate, non vorrei che ogni volta si parta da una mappa, soltanto, poi si accede a altre 3-4 aree massimo, e tutto quanto è separato a seconda della partita. Avrebbe più senso dire, parto da una hub centrale, che è casuale ogni singolo game, ma posso collegarmi a 5, 6, 10 arene, e non andare sempre nelle stesse 3 o 4, a seconda dell'hub iniziale, per cui se sono a Stalingrado, non limitarmi a Shinonuma, o Ter Royale, e quelle zone lì, e sì, farmi andare veramente dappertutto. So che storicamente non ha troppo senso, ma dobbiamo vedere anche il gameplay. E' importante avere tanta varietà per numero di obiettivo, numero di zone, e non fare veramente sempre le stesse cose. In più anche per l'obiettivo vuoto che è around, non sempre su Shinonuma o zone simili, perché altrimenti diventa molto ripetitivo, ancora peggio di prima. Quindi ragazzi, questi sono i contenuti che dovrebbero arrivare in stagione 2, per zombie questo è soltanto l'inizio, secondo me questi sono alcuni dei contenuti, ma arriverà anche altro, si spera ovviamente la pausa, e altri piccoli cambiamenti simili. Aspettiamo come sempre tutti i blog di Trek, per avere i contenuti elencati davvero bene, e tutti gli altri contenuti che arrivano come all'inizio season, per cui il battle pass, le sfide, e tanti altri cambiamenti e patch notes per tutto quanto il gioco, oltre che per zombie. Voglio sapere quindi tutte quante le vostre opinioni, se siete contenti di questi contenuti che stanno arrivando, quindi Wonder Weapon, Nuovo Demone, Nuova Zona, e tutte le arene di conseguenza collegate, e magari miglioramenti in generale, a The Run Fang. Nessun accenno per quanto riguarda mappe around, continuo a pensare personalmente che quest'anno, probabilmente non le vedremo, ma tutto quanto zombie, sarà solo su The Run Fang questa modalità. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, vi sia stato utile, tutti quanti i contenuti, quindi i post di Nanikos, sono qui sotto in descrizione, se volete trovare anche tutti quanti i link per i miei social, tra cui Instagram, Twitch, e anche il canale Discord, ci diamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio, alla.